Si fa motto et manifesto a voi, invito et valoroso omo d'armi, la volontà dello illustrissimo castellano della fortezza de Santo Leo, de invitare la Signoria vostra agli festeggiamenti per lo matrimonio dello eccellentissimo Federico Conte d'Urbino con Nostra Signora Madonna Battista Sforzi. Nel odie quinto e sesto de settembris se farà uno torneo a pede molto nobile, in campo chiuso, con spade cortese e tarmatura tutta, creste, livree e stemmi come vuole l'antica usanza. Fortezza de Sancto Leo, Die Primo, Marci, 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 Marci. 1.460.